secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non mi fa arrabbiare se per voi è normale da te devi mettere una serie a fuoco dai è semplice lo puoi fare senza problemi manco io manco io ma che è sto ponte? no no ragazzi no ti prego viaggiatore del tempo ma ci siamo già visti? farmi viaggiare nel tempo per ascoltare le tue canzoni preferite ancora e ancora e ancora no Wally no la voce di Wally ah 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 che cosa boccarmi? smutati ma si frate ma io lo sapevo che andava a finire così frate sei fuori no che no sono ancora fuori è stato un leak piuttosto grave di gta oggi mi cado da uno senza dire brutto e io P HOCADDIO oh no no non cambia rega è un catruzione estratta È tutto pronto 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 Cosa Gianmarco Mi senti Mi senti Gianmarco Gianmarco Non si capisce niente Sono napoletano ma non vuol dire che rubo Non si capisce niente Sono napoletano ma non vuol dire che rubo Pronto Pronto Da De Passo Passo E ammazza di passo Stai veramente esagerando Sono entrato dentro Dovreste venire dentro anche voi Ci sta assegando Uomo bocchino Ci sta masturbando lì dietro Quel porco maiale Uomo bocchino Ragazzi Era una coppia Ma quello ha un guanciale fresco Ma era una coppia gay Quadro in living room Ma che è C'è chi è C'è chi è C'è chi è La sensazione è che Luca è stata ammonita Incredibile Incredibile Ha ammonito a presurlo Doppia ammonizione Va fuori Poi si rialza Faccia a faccia Con l'armi Ho visto per caso Qual era la lettera Di riferimento Al pianeta Per capire Quando è difficile Ovviamente no Benissimo Ragazzi Siamo una squadra Fortissimi Di che cozzalone Non è vero C'è no Non l'ho mai sentita Più di tutto con te Di holly Ma che cazzata è Fare tutto con te Si che l'hai sentita Piccione maledetto Ma non la conosco Non so nemmeno che canzone è Piccione maledetto Piccione maledetto Sempre alla ricerca delle briciole Io te ne stacco il becco Se ti rivedo ancora sulle tegole Ora voi siete cocainomani Io sono un poeta E voi siete cocainomani Chi ha vinto? Nessuno Perché non è una competizione Si già mo ci saranno tre tre Che fa? Che fa? Che fa? Ma cosa stai facendo? No Cosa stai facendo? No No niente Peride chi giustamente si fa di cocaina? Oh no no niente io No Ma che cazzo fai? Ma che fai? Ma tu mi senti? Ma cosa cazzo fai? Ma come ti permetti? Ma che fai? Ma di chi sta parlando? Ma come? Ma che fai? Ma certo che ti sento Ma io non ti sento eh Ma che fai? Ma che di chi sta parlando? No sto parlando di te Sto rimando quello che stai facendo Nella tua live c'è la mia faccia No sto parlando di te Ma che dice Sto rimando quello che stai Peride chi giustamente si fa di cocaina Un apprezzamento importante A tutti voi L'ho dato oggi nulla Marzò No ragazzi 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 Io credo che il maestro sia morto No ragazzi mi sentite? No ragazzi mi sentite? Ma è un tubo Ma non so Come si prende questa chiama? Non so non riesco Non so veramente scherzando Cioè il maestro non ci sta un'altra volta Regà? No ragazzi Che cos'è sta roba? No ragazzi Perché l'hai preso adesso? È buono No ragazzi Ha tolto la luce in tutto l'edificio È buono quello ragazzi E anche per me Molto contento che nei commenti delle altre puntate Tantissime persone Che sono Che non abbiano Abbiano Apprezzato E tu Ha uno con otto anni Di youtube alle spalle Che adesso Gli edit degli youtuber Ragazzi Che cazzo era? Ma sei un pezzo di merda Mi sono cagato solo Ciao Ciao raga Allora Averso Rasta Che se te muovi in gruppo Un po' li disorienti È giusto Ok Vado Ti faccio Stradamati Ti faccio strada Vai 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 Vola vola No Ragazzi ma stanno stendo Ci sono gli esplosivi Ti devo fare degli snacks Ragazzi Ma perché ha fatto così? Marzo Ma che c'è? Ah 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 Porco dio Eh questo Questo è andato Questo è andato Questo è andato Che physically Che Mi Mi